Beh, perché eri l'unica che poteva capire, o almeno solo adesso, insomma, insomma, potrebbe aiutarmi a spiegarlo agli altri, se no non mi crederanno mai. E quindi ho pensato, ah, io sono stata nella tua stessa situazione, e da poco, insomma, non ne chiedono c'è tutto da tanto tempo. Potreste aiutarmi a dirlo agli altri, non mi crederanno mai, se no, io voglio tornare con voi. Non so cosa mi sei venuto in mente, di andare con quella lì. Già, anche a me non so cosa ti sei soltanto in mente, ma, non so, mi ha, ci ha confuso. Ma adesso abbiamo capito i nostri errori e possiamo tornare con le nostre amiche. Quindi gli parlerai? Sì. Ah, grazie, Betty, sei po' di gentile. Di nulla. Adesso mando un messaggio nella chat di gruppo e invito tutti alla pasticceria, così gli parlerò, gli dirò tutto e poi, insomma, eh, ok? Sì, va bene. Poco dopo alla pasticceria. Allora, Betty, perché ci hai fatto venire qui? Già, dai, che siamo curiosi. Io spero niente di male, perché ultimamente quando qualcuno chiede di venire qua tutti in pasticceria e si mette i limpidi davanti, deve dire un discorso. È una cosa brutta. Sì, anch'io sono preoccupata, infatti. Ma no, dai, cosa può mai succedere di brutto a Betty? È tornata con noi. Mmm, non sai mai cosa può succedere. Già. Vabbè, dai, ascoltiamo cosa da dire. Infatti, parla, Betty. Ecco, beh... Ehm... Una persona che conosciamo tutti. Oddio, già questo person... L'inizio non mi piace. Già. Ecco... È cambiata. Oh, mamma, mi sento male. Che può essere cambiato? O cambiata? Ma... Ma... Ma in positivo è cambiata. Visto che non era successo niente di male. Già, ragazzi, state calme. E... Ecco, vorrebbe tornare con noi? Ma come tornare con noi? Quindi è già stata con noi? Ma io pensavo a una persona qualsiasi che era diventata gentile. Sì, anch'io. Ma allora chi può essere? Questa persona è? Dai, entra. Ehm... Ciao a tutti. È Blair! Blair! Esatto, ragazzi. Lei non è più minimamente interessata a stare con Sofia. Sì, infatti. Gli ho detto che la nostra amicizia era chiusa. Poi, insomma, tanto lei si è trovata altre amiche. Sempre tra virgolette. Perché li ha pagate. Ehm... Insomma, lei stava sfruttando me e Betty. Già, solo perché voleva avere tante amiche. Volevo fare colpo sulla sua cugina che ha sempre avuto più di lei. E niente, poi adesso che me ne ero nata io, ha dovuto pagare altre amiche. Già, e adesso me ne sono nata io. Non gli bastano le amiche, ma non mi interessa. Se lo merita. Già, ci ha sfruttato per tutto questo tempo. Sì, noi abbiamo truttato male i nostri amici. E li abbiamo persi. Però adesso siamo tornati entrambe brave. Già, e quindi possiamo essere il gruppo che eravamo una volta? Ehm... Beh, in effetti ha senso. Sì, anche io mi chiedevo perché insistava tanto su avere degli amici. E rigorosamente della città alta. Ah, quindi se noi fossimo stati della città alta avrebbe cercato di diventare anche i nostri amici. Già. Ora tutto quadra. Ma è una splendida notizia. Possiamo tornare a quelli di una volta? Sì, che bello! Oh, che bello, Blair! Vieni qui, migliore amica. Mi sei mancata. Già... Adesso non è più, Sofia. Già, e adesso... Ho di nuovo la mia migliore amica. Ma, ma, ma... Ma ragazzi, che cosa vi prende? Oh? In che senso cosa ci prende? Ma, insomma, arriva Blair che sicuramente si è messa d'accordo con Betty e dice Oh, sì, sì, si stava sfruttando. No, vogliamo tornare con... Voi, bla 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 bla, non ci interessa più, Sofia. Oh, andiamo. È tornata a Betty, combinazione e subito qualche giorno dopo torna Blair. Andiamo, non ci credo. È tutta una falsa. Eh, beh, ma io credo che sia vero. Già, anche i motivi che non ho detto ci crede... Ha senso. Ma quale senso? Eh, io ci credo. Ma dai... Anche io ci credo. Pure io. Ci crediamo tutti, Giù. Viola, perché te no? Beh, fatti come volete. Perdonatela, ma poi non venite a piangere da me quando torneranno cattivi o faranno qualcosa di brutto. Io vi avevo... Avertito. E poi questo l'ho già pagato. Ma, ma che gli hai preso? Già, non la riconosco più. Forse non voleva che tornassi. Ma no, dai, non farci caso. Sono sicura che doveva solo abituarsi. Sì, infatti non è facile perdonare per lei. Sì, è sempre stata un po' così. Lasciamole un po' di tempo. Intanto noi festeggiamo. Eh, ok. Comunque sono contentissima che sei tornata, amorino. Mi sei mancata tantissima. Poi non avevo neanche capito se ci eravamo lasciati o no. Anche tu mi sei mancata tantissimo. Comunque no, non ci eravamo lasciati. Solo che non ci eravamo capiti. Già, vieni qui. Dai, forza, ti diamo qualcosa anche per Blair e Beth. Già, e ve lo offriamo noi. No, ma dai, ma siete troppo gentili. Sì, sì, ve lo meritate. Dobbiamo festeggiare. Grazie, troppo gentili. Che bello essere tornati con i miei amici, la mia fidanzata e la mia migliore amica. Già, già, è tutto stupendo. Ah, e quindi Blair è fidanzata. Beh, ci penserò io a togliere quella ragazzina con i capelli belli blu di tosso. Ah, me la riprenderò. Bene, ragazzi. Blair è rientrata nel gruppo e l'hanno citata tutti bene. A parte Viola, secondo voi perché non si fida di lei? Insomma, gli ha dato così fastidio e... Ai ai. Carol ha scoperto che Blair è fidanzata. Chissà cosa succederà. Di sicuro niente di buono. Distruggerò quella ragazzina. Comunque, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Già, questo finisce qui. Iscrivetevi, lasciate like. Tutto come al solito. E ci vediamo nel prossimo. Ciao, un abbraccio e un bacione. Buon pomeriggio, buonasera, buon mattino, insomma, quando vedete l'episodio. Ciao, ciao. Alla prossima!